Ciao, sono Paolo Pialorsi, da piacist.com e sono molto felice di invitarvi per attendere l'Unione Europea di collaborazione, che sarà nel maggio 2018 in Maine. Sarà il più grande evento di comunità in Europa. Sarà domande come Office 365, SharePoint Online, Azure Development, e sarà il momento per essere se vuoi diventare un maestro in gestire soluzioni per l'Office 365 e la cloud in generale. Siamo spero di trovare qui. Grazie a tutti.